Buongiorno, sono Paolo Leonardi dell'azienda Clemens. Sono proprio contento di partecipare a nome di Clemens qui a questa manifestazione di Vita in Campo. Oggi siamo qui con Clemens per presentarvi le macchine per il discorso del diserbo meccanico, quindi tutto quello che riguarda le macchine riguardanti il discorso ecosostenibile, quindi la riduzione del diserbo chimico. Con queste macchine Clemens è un leader nel settore per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzatura meccanica per riuscire a ridurre l'utilizzo del diserbo chimico. Quindi il focus anche di questa manifestazione, che noi partecipiamo molto volentieri, è appunto quello dell'ecosostenibilità. Noi siamo qui e abbiamo visto che la partecipazione delle persone è molto sentita e è molto interessata a questo argomento. Per noi è sempre un onore partecipare anche perché abbiamo proprio il contatto diretto con i nostri clienti e con anche futuri clienti, quindi per noi è veramente una soddisfazione partecipare anche vista la grande affluenza che ci troviamo quest'anno.